Ciao amici e benvenuti a un altro video del vostro Rockwain, benvenuti a un'altra mia recensione. Come avete letto dal titolo, oggi vi recensirò delle bustine della serie The Epic Animals, delle bustine appunto realizzate, prodotte da Dynamics. Questa volta per la serie The Epic Animals vi recensirò delle bustine dedicate alle creature dei ghiacci. E quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a spacchettare queste cinque bustine appunto The Epic Animals dedicate appunto alle creature dei ghiacci. E allora, vedete sono ancora qui nel sacchetto, le ho appena comprate in edicola. E allora, intanto questa è la confezione abbastanza bella, bella grande, bella lucente. Qui lateralmente a sinistra vediamo il grande logo The Epic Animals e sotto in basso appunto il tema di questa serie. Creature dei ghiacci. Qui nel centro abbiamo questa grande figura di questo bellissimo orso polare, che rappresenta un po' la mascotte di questa nuova serie. E quindi questa è la confezione sul davanti, come si mostra sul davanti. E qui è il retro. Ogni bustina costa appunto 3,50 euro. Qui c'è la checklist. Ecco qui. Sinceramente, di questa serie, che mi sembra abbastanza ben realizzata, di questa serie almeno vorrei riuscire a trovare, non so, mi sembra una specie di tricheco questo, spero di non sbagliarmi. Questo dovrebbe essere un leone di mare. Un secondo che metto un po' più a fuoco. Comunque, mi piacerebbe tantissimo trovare l'orso bianco, qualche aquila, mi piacerebbe davvero tanto, e magari qualche balena. Non perdiamo altro tempo, e apriamo queste bustine. Spero almeno di trovare qualcuno che mi interessa. Allora, vediamo qua che c'è. Ma, diciamo, diciamo che ho trovato questo uccellino. Allora, questo si chiama... Vediamo, ho trovato pulcinella di mare. Ho trovato questo, che sinceramente non è uno di quelli che speravo di trovare, però devo dire che è abbastanza ben fatto. Questo non è uno di quelli speciali, è uno di quelli normali. Sempre morbido. Comunque, ben realizzato. Vediamo quest'altro che cosa troverò. Mi sa che troverò qualche balena. Spero di non trovare. Vediamo qua che cosa c'è. Oh, bellissima! Bellissima! Questa bellissima orca assassina. Davvero, davvero bellissima. Non è uno di quelli speciali. Ma, devo dire che mi piace davvero tanto. È sempre allungabile, morbido. Ve lo metto un po' da vicino, così lo vedete un po' meglio. Ecco qua. Vediamo queste altre tre cosa ho trovato. Vediamo, vediamo. Mi piacerebbe tanto trovare l'orso bianco, ma... Ho trovato questa specie di lupo. Dovrebbe essere un lupo. Questo è fosforescente. Spero che si veda bene. Nello specifico è... Il libretto è uguale per tutti. Cambia soltanto il poster centrale del personaggio che trovate. Allora, nello specifico questo è leopardo delle nevi. Rappresenta il leopardo delle nevi. Devo dire, è davvero carino, comunque. Vediamo negli altri due. Mi piacerebbe tanto trovare l'orso polare, ma... Uno, due, tre. Uno, due, tre. Oh mio Dio, ecco qua l'orso polare! Come vedete, con la temperatura, appunto, col freddo diventa scuro. E' l'orso bianco, ed è davvero fantastico. E' davvero fantastico. Per fortuna che l'ho trovato. Mamma mia, mamma mia. Vediamo se diventa... Ecco, vedete? Col calore diventa bianco. Eeeh, l'ho trovato. Davvero bellissimo. Sempre morbido, allungabile. E questo, appunto, è uno di quelli speciali, appunto. Col calore diventa bianco, col freddo scurisce. Davvero carino. Abbiamo qui, ragazzi, l'ultima bustina. Uno, due, uno, due, uno, due. Chi troverò? Mmm, il beluga. Sinceramente, non mi piace. Sinceramente, ragazzi, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Sinceramente... Dovete sapere che di questo beluga, io ne avevo già regalato uno alla mia ragazza, in una scorsa, passata edizione. Eeeh, di un'altra serie, sempre dedicata a questi animaletti gommosi. E mi è capitato questo beluga. A me, sinceramente, non mi piace. Io l'ho regalato alla mia ragazza, e pazienza. Quest'altro glielo regalerò pure a lei. Così ce ne ha due. Quindi, questo è il beluga, questa specie di balenottero bianco. Spero di non sbagliarmi. Questo non è uno speciale, è uno normale. In ogni bustina troviamo sempre un magazine, appunto, che si chiama qui D-Dynamics Magazine Terra, che è uguale in tutte le bustine. Cambia soltanto, appunto, il poster centrale del personaggio in questione, dell'animale, che troviamo nella bustina all'interno. Poi, tutto il resto, il libretto è identico. Tanti giochi, curiosità. Qui c'è il poster dell'animale dedicato. Poi abbiamo qui altre illustrazioni, altri giochetti, e così via. E quindi, nello specifico, possiamo trovare Aquila Disteller, che è quella che cercavo io. Questo bellissimo gufo delle nevi, che devo dire che mi piace anche. Questo si illumina al buio. L'Aquila, qui, Disteller, cambia colore. Quindi, anche ha l'effetto termico, come l'orso. Poi abbiamo Elefante Marino, questo è normale. Poi abbiamo quello che io ho trovato, che è Pulcinella di Mare, che è anche normale. L'altro che ho trovato io, questo Leopardo delle Nevi, questo appunto si illumina al buio. questo pulcino di Pinguino Imperatore. Questo appunto trasparente, con sfere gel. Qui, appunto, abbiamo l'Orca. Qui abbiamo l'Orso Polare, bellissimo, che appunto cambia colore, o col caldo, o col freddo. Poi troviamo appunto il Tricheco, il Beluga, normale, normale. Poi il Pinguino Crestato, normale. Poi questo Lupo Artico, che si illumina al buio. Poi troviamo questa Balena, della Groenlandia, normale. Bisonte Artico, molto bello, normale. Cucciolo di Foca, della Groenlandia. Questo cambia colore. e infine abbiamo questo Capodoglio, che è anch'essi normale. E quindi non posso dirvi altro, che di fiondarvi in elicola, di comprare questa nuova serie, prodotta dalla Dramix, e di tentare di catturare, tutte queste creature dei ghiacci. E quindi amici, questa era la mia recensione, fatemi sapere che cosa ne pensate, con un commento scritto, con un mi piace. Al prossimo video, e come vi dico sempre, ma che cosa è? e come vi dico sempre,